Era sottoposto agli arresti domiciliari ma continuava a cedere droga a giovani assuntori modicani, tra questi anche una ragazza di soli 16 anni alla quale chiedeva in cambio prestazioni sessuali. La vicenda è stata portata alla luce dagli agenti del commissariato di polizia di Modica grazie alla segnalazione della madre della ragazzina. Ieri mattina i poliziotti hanno così eseguito una misura cautelare messa dal giudice del tribunale di Modica nei confronti di Saddam Mejri, 22 anni, tunisino. In particolare gli investigatori hanno appurato che il giovane nordafricano che si trovava ai domiciliari per i reati di droga, ricettazione e detenzione illegali di armi. Era solito ricevere la sedicenne alla quale cedeva dosi di stupefacente e con la quale consumava atti sessuali non curante della sua giovane età e dei disturbi della personalità di cui la ragazzina era affetta. Era stata la madre della giovane preoccupata per le frequentazioni della figlia, in particolare di quella con un cittadino straniero del quale sembrava essersi imbaguita a dare il via alle indagini. Durante l'esecuzione della misura cautelare gli investigatori hanno trovato inoltre e sequestrato al giovane tunisino una pistola giocattolo priva di tappo rosso calibro 9 in metallo del tutto identica a quelle in uso alle forze dell'ordine ed un bilancino per la pesatura dello stupefacente che il 22enne aveva rascosto sotto alcune tegole poste sul tetto della propria abitazione. Infine, sempre durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto che il giovane si era allacciato abusivamente alla rete elettrica dell'Enel tramite un cavo provvisorio. Per questo motivo è stato arrestato anche per il reato di furto di energia elettrica. Per il genere di valore e rispettare il aiutare ovario. E alla prossima città